Episodio abbastanza atipico, alzardo a dire, quello che di recente si è verificato, pensate a Gallarate, ci troviamo nel nord dell'Italia, precisamente in provincia di Varese, nel Vareseotto. Infatti i due ragazzi sarebbero stati avvistati da alcuni passanti che ieri 1 settembre 2022 erano intenti a fare l'amore, a svolgere attività intime e sessuali all'aperto, senza vestiti addosso in una vicinanza di una piazza, quella di Piazza San Lorenzo, vicinissima ad una biblioteca anche abbastanza famosa, tra l'altro nel piano centro di Gallarate. I due ragazzi erano, diciamo così, intenti a fare l'amore, distesi proprio sull'asfalto, senza vestiti addosso, colpiti da una voglia totale di fottere, diciamo così, le immagini poi sono diventate virali sul web, il video addirittura sembra che sia diventato virale a tutti gli effetti, e ha avuto un eco mediatico davvero incredibile, azzardo a dire, elevatissimo. Insomma, poi sono stati bloccati, sono stati invitati a comporsi, a vestirsi, non so se, diciamo così, sosterranno un processo penale, ma come si legge sul web, sembra che la coppia sarebbe stata denunciata, è meglio utilizzare il condizionale perché non voglio avere problemi soltanto. Detto ciò, detto questo, grazie a tutti voi, cari senti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi, se vi va a commentare, ciao a tutti da Reano Donato Italiano.